Durante una messa nella chiesa di Wallachey a Sydney, un tragico evento ha sconvolto i presenti, tra cui il Vescovo Marmari Emanuel, leader della Comunità Christ de God Steffeld. Mentre la funzione religiosa era in corso e trasmetteva in diretto online, un uomo vestito di nero ha improvvisamente estratto un coltello, scagliandosi verso il prete che ufficiava la celebrazione. Le telecamere hanno catturato l'orrore dell'attacco, mentre il Vescovo e diversi fedeli cercavano disperatamente di difendersi e soccorrersi a vicenda. Nonostante i ferimenti inflitti durante la furia dell'aggressore, fortunatamente nessuno ha subito ferite mortali. Gli altri presenti si sono lanciati in soccorso del Vescovo rischiando le proprie vite per fermare l'assalitore. La prontezza dell'intervento e delle forze dell'ordine ha permesso di arrestare l'uomo responsabile dell'aggressione. L'allarme è scattato intorno alle 20 ora locale. Le squadre di emergenza hanno rapidamente risposto alla chiamata, portando i feriti in ospedale per ricevere cure mediche immediate. Tra i feriti c'è stato il Vescovo stesso insieme ad altri fedeli, ognuno con lesioni causate dalle feroci coltellate. Tuttavia le condizioni non sembrano essere gravi, secondo quanto dichiarato dalla polizia.